che ha permesso e ha sostenuto l'organizzazione di questi di questi di questa tre giorni che continuerà anche nelle prossime settimane con degli eventi che rilasceremo nei prossimi giorni questo è il giorno finale della tre giorni questo è l'ultimo evento della mattina Giovanni Zagni con tutto quello che sai sulla disinformazione è falso e lascia a te Giovanni la parola e per qualsiasi cosa io sono qua sparisco perché appunto lascio il tuo bellissimo ufficio grazie mille Andrea ascolta tra l'altro se puoi parte la diretta anche su su facebook fammi un non vanno così la condivido in realtà non vanno scusami non vanno su facebook non vanno in streaming ok usiamo streaming in in differita ok meglio così ok d'accordo grazie mille grazie Andrea per la presentazione soprattutto per l'invito ci conosciamo da molto tempo con con Andrea con con i ragazzi di slow news ed è ed è un piacere partecipare a a queste a questi a queste giornate di eventi che ho visto che hanno avuto un sacco di 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 relatori anche molto più molto più importanti di me quindi diciamo mi trovo nell'ufficio di di pagella politica in questo diciamo diciamo domenica mattina orario brunch perché come dicevo da Andrea stava per arrivare la spesa di essere lunga a casa quindi ho deciso che non era il caso di farvi di farvi vedere l'arrivo delle delle derrate dietro la mia presentazione anche perché la presentazione quello di cui vi vorrei parlare stamattina è diciamo ho scelto apposto un tema un po in titolo un po provocatorio perché credo che insomma ci sia 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 il caso di fare una seria discussione finalmente su che cosa intendiamo quando parliamo di disinformazione e fare una seria riflessione su qual è l'importanza della della disinformazione e il rilievo del problema nelle nostre nelle nostre vite nel nostro panorama informativo dunque premetto subito che io nel parlare di questo di questo tema ho tutti i possibili conflitti di interesse del mondo perché sono non solo il direttore di non uno ma due progetti di fact checking uno è pagella politica di cui vedete dietro di me il logo l'altro si chiama facta punto news è un progetto che abbiamo lanciato circa un anno fa e di cui vi racconterò due cose probabilmente più avanti nella mia presentazione quindi non solo perché sono il direttore dei due progetti di fact checking ma anche perché la la società diciamo la società di cui faccio parte è partner di 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 facebook di instagram di diversi social network nel sul tema della propria della disinformazione del controllo delle delle notizie false quindi eh parlerò ovviamente di disinformazione di social network metto subito le mani avanti il mio punto di vista non è il punto di vista neutro di un di un di un ricercatore o di un eh o di un o di un accademico di qualcuno che non ha in qualche modo eh le mani in pasta io le ho ma ve lo dico cominciando subito così non ci sono fraintendimenti ecco il punto di ripartenza delle mie riflessioni che vorrei un po raccontarvi oggi è un articolo veramente eh illuminante che è stato pubblicato poco tempo fa nel numero di settembre della rivista del magazine americano Harper's eh intitolato bad news ed è l'autore si chiama joseph bernstein e lo trovate sia sia online e dovrebbe penso sia gratuito sia nel cartaceo che io mi sono procurato tanto mi era piaciuto questo questo articolo che addirittura è finito è la storia di di copertina con un titolo un po diverso cioè disinformed how we get fake news wrong dunque alcune delle cose che dirò ora vengono più o meno dal dall'articolo di di bernstein perché leggendolo mi sono reso conto che lui aveva messo per iscritto come spesso succede delle cose che io avevo in testa da un sacco di tempo ma che non ero riuscito diciamo a ehm a a visualizzare con così tanta chiarezza allora il punto di partenza diciamo è come come saprete che tutti parlano di di disinformazione ok cioè eh il tema della disinformazione delle fake news eh un po' come nella scena di nanni moretti no di tutti parlano di cinema ehm è un po' uno di quei temi in cui chiunque sente si sente eh insomma interessato da questo tema e quindi giustamente tende a esprimere poi delle 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 opinioni delle delle teorie su questo tema e il tema è molto presente su sui nostri mezzi di comunicazione ovviamente eh la gente molto spesso dichiara di essere preoccupata per la qualità pessima dell'informazione per il fenomeno della disinformazione per il diffondersi di fake news e diciamo la vulgata comune o l'idea insomma eh più diffusa più dominante è una cosa più o meno di questo tipo c'è la disinformazione eh fenomeno che si diffonde principalmente sui social network e che è colpa diciamo eh degli degli algoritmi del fatto che c'è una eh ci sono questi meccanismi opachi interni a social network che diffondono i eh che diffondono la disinformazione e se ci pensate questa è proprio una cosa così banale che proprio all'inizio di tutti gli eventi gli articoli eh le 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 eh gli 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 non so i servizi televisivi che trattano disinformazione viene detta questa cosa qua da quando sono arrivati i social network la disinformazione ha avuto e poi ha avuto delle conseguenze anche nella vita reale pensate all'attacco del 6 gennaio al Campidoglio eccetera eccetera bene quindi questo è non solo ma intorno al tema della disinformazione si è creato poi tutta una eh professionalità diciamo di eh figure professionali progetti di ricerca ehm giornalisti che seguono questo tema ci sono ad esempio in diversi in diversi magazine e giornali americani ci sono c'è proprio il disinformation bit cosiddetto cioè c'è proprio dei giornalisti che seguono soltanto il tema della disinformazione tanto che una delle prime più interessanti eh come si suol dire intuizioni una prima più interessante intuizioni dell'articolo di Bernstein è che ci sia oggi una big disinfo la chiama lui nel senso di un un insieme di eh professionalità cattedre universitarie articoli eventi convegni strutture che si occupano professionalmente di disinformazione e che hanno al dietro di loro e che sono diciamo l'unione di alcuni media che se ne occupano in modo particolarmente eh continuativo penso ad esempio all'Atlantic o al New York Times eh alcuni accademici e ad esempio sia a Stanford che a Harvard oggi ci sono importanti centri che si occupano di studiare la disinformazione ma anche a Oxford e ci sono anche diversi esempi qui da noi in Italia e poi ricerca in generale eh centri di ricerca che ci occupano di dare consigli di di policy no eh i cosiddetti think tank bene questo eh questo modello diciamo eh si basa sull'idea che diciamo poiché la cattiva informazione si diffonde nella popolazione ha come immediato effetto che la gente creda a delle cose sbagliate e poi si comporti in modo tra virgolette sbagliato bene quindi la premessa è che i social sono in grado di influenzare direttamente i comportamenti è una visione se vogliamo un po' meccanica del tema no? Una visione in cui eh il pubblico è una specie di ricettore passivo di quello che gli arriva sui social network di quello che legge sulla timeline dei dei social e poi agisce di conseguenza quindi se quello che gli arriva è di cattiva qualità succederanno delle cose brutte e la cosa interessante è che gli stessi social network sono abbastanza d'accordo nel vederla così cioè dopo il momento iniziale in cui come sappiamo tutti eh Mark Zuckerberg avvisse che era abbastanza era abbastanza stupido mi pare usasse perché stupido qualcosa del genere pensare che la gente avesse votato in un certo modo perché eh aveva visto delle notizie false su Facebook dopo questo momento iniziale diciamo un po' il consenso anche dal punto di vista della tecnologia è stato che eh in realtà quel modello diciamo di influenza diretta fosse quello giusto questo modello un po' meccanico ora questo però è anche un modello che dal punto di vista teorico se ci pensate è alla base di quello che gli stessi social network pensano di se stessi no? Cioè i social network vendendo pubblicità agli inserzionisti devono pensare devono essere convinti e devono anche revendere il punto di vista che eh quello che effettivamente viene pubblicato come articoli ma anche come pubblicità a un certo punto sulla loro timeline sia in grado di influenzare i comportamenti di chi li vede perché altrimenti si capisce molto bene che non avrebbe alcun senso investire in pubblicità sui social network se non avesse se non avesse effetto quindi diciamo già si comincia a capire che questo modello diciamo meccanicistico è un modello che fa comodo tra virgolette a molti fa comodo ad esempio anche alle grandi testate dei cosiddetti legacy media no? Testate che sono in giro da molto tempo tipo dal New York Times fa comodo descrivere il fenomeno della disinformazione come una cosa devastante e eh onnipervasiva e molto efficace in modo da dire non andate a informarvi là dove ci sono le cose brutte venite da noi che invece siamo in grado di dirvi quelle vere bene ci sono diversi questo tra l'altro si ritrova per gran parte nel nella nell'articolo che vi citavo eh ci sono diversi quindi diciamo intervengo io ci sono diverse prove alcune delle quali anche dette ricordate da Bernstein ma io ve ne menziono qualche altra che non sia così che questo modello non funzioni ve ne cito soltanto una ogni anno l'European Broadcasting Union che è sostanzialmente un'associazione che riunisce i mh le RAI dei vari paesi diciamo le emittenti nazionali dei vari paesi commissiona a Eurobarometer una eh ricerca e rielabora i risultati di questi sondaggi per pubblicare un rapporto che si chiama Trust in Media che esce ogni anno e che misura appunto il grado di eh fiducia che c'è nei mezzi di di comunicazione di informazione eh tra l'altro si può scaricare liberamente online si trovano online tutte le tutte le puntate tra virgolette bene cosa viene fuori costantemente dall'indagine Trust in Media che se si fa una classifica di quali sono i mezzi di informazione di cui la gente ha più o meno fiducia viene sempre fuori che internet e i social network sono all'ultimo posto a livello europeo circa due cittadini europei su tre secondo il sondaggio dicono di non fidarsi di quello che vedono sui social media questa è una cosa molto rilevante perché vuol dire ci ricorda che eh il la fiducia che la la gente ha in quello che legge sui social network è molto scarsa e che la prima reazione di un che qualcuno ha di solito davanti a una notizia che legge sui social media è ma io di sta cosa mi devo fidare tendo a credere che non sia vera ok quindi tra l'altro è un gap che si va allargando perché uno pensa vabbè è una cosa temporanea adesso con il passare del tempo vedrete che eh la gente si 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 abituerà di più a usare internet come mezzo di di informazione invece no non è così eh o meglio i social più che internet eh non è così il il divario tra i social media tradizionali è una cosa che negli anni è andato aumentando e voi vi chiederete allora ma allora di che cosa si fila di più la gente il al primo posto sempre in tutte le eh edizioni di Trust in Media c'è sempre la cara vecchia radio eh poi viene la tv mi pare e poi i giornali quindi diciamo eh i media più tradizionali paradossalmente sono ancora percepiti come quelli eh di cui ci si può fidare di più la radio peraltro anche un meccanismo molto chiaro per cui eh invita la fiducia perché è sempre chiaro chi parla c'è una voce che ha un nome e un cognome che dice delle cose e quindi è molto più facile fidarsi di quella cosa lì piuttosto che fidarsi ad esempio di un articolo pubblicato online che nessuno eh sa quale sia l'autore iniziale quindi scusate eh diciamo ci sono dei forti indizi che in realtà questo modello di influenza diretta di quello che vediamo sui social network sui comportamenti eh umani diciamo ha eh ha qualche limite non funziona del tutto tra l'altro c'è anche la nota questione dell'estrema opacità del delle piattaforme per quanto riguarda la pubblicazione dei dei dati eh per cui non ci sono molte moltissime ricerche non ci sono tantissimi dati per provare a capire se la gente viene davvero influenzata da quello che legge online eh e quindi in un certo senso ci dobbiamo più o meno fidare eh di evidenze empiriche di storie che arrivano sui giornali e quella persona ha fatto questa cosa dopo aver letto quelle delle cose online comunque su questo torniamo torniamo fra un momento non solo non solo c'è questo grosso problema e cioè che tendiamo spesso a visualizzare la situazione della diffusione della disinformazione online come sostanzialmente una massa di eh boccaloni che eh credono in qualsiasi cosa gli passi davanti eh sui loro account social come non credo che sia così per le persone che stanno seguendo questa chiacchierata così non credo che sia così anche per tutte le altre persone cioè pensare che al di fuori di là fuori ci siano delle masse di gente che si prendono si bevono tutto quello che sta sui social network è un po' come dire è una probabilmente una semplificazione che non rispiecchia moltissimo la realtà questo non vuol dire che quelle persone non ci siano e che ci sia della gente ad esempio che crede in qualsiasi cosa gli passi davanti eh sul sul feed dei dei suoi social network ma questo diciamo se non altro diciamo sarà una minoranza saranno poche persone sarà un certo tipo magari eh di persone che ha alcune caratteristiche eh che si può provare anche anche a capire e anche su questo torniamo tra un minuto ma c'è un altro problema a monte che è ancora più grave e che mette ancora più in crisi questo modello e cioè che nessuno sa bene che cosa si intenda quando si parla di disinformazione ma anche di che cosa si parla di misinformazione che è un altro termine usatissimo tra diciamo gli esperti del tema o di propaganda online o perfino di clickbait cioè è una tutto quella quella nuvola di concetti che ruotano attorno al tema della disinformazione e che poi quando si va a guardarlo guardarli più da vicino si vede che nessuno ha ben chiaro di che cosa stiamo parlando e qui è un altro punto cruciale perché è ovvio che se diciamo la disinformazione è dappertutto e influenza le nostre vite ma non siamo in grado di definire con precisione che cosa sia questa disinformazione è chiaro che come diciamo strumento per capire la realtà è qualcosa che non funziona benissimo allora ci sono diversi studi che si sono resi conto di questo fatto ad esempio vi cito uno studio brasiliano del 2021 che è stato pubblicato da due bravissimi ricercatori che hanno fatto una hanno provato a capire come definivano disinformazione e misinformazione degli studi che si occupavano del tema e poi qualche anno fa c'è stato nel 2018 una rassegna di quasi 100 pagine che io che io di tutti gli studi usciti sulla disinformazione diciamo che ha provato a fare una rassegna degli studi la più completa possibile sapete che nelle nelle materie scientifiche ogni tanto si fa una rassegna degli studi cioè si dice qualcuno dice ok su questo tema è stato scritto tantissimo vediamo di prendere tutto quello che è stato scritto leggercelo e riassumere sostanzialmente dove sta la ricerca a questo livello e praticamente viene fuori da questo sia dalla rassegna del 2018 che dallo studio brasiliano 2021 viene fuori che nessuno né tra il pubblico ma neanche tra i ricercatori ha ben chiaro di che cosa si parla quando si parla di disinformazione nessuno adotta la stessa la stessa la stessa definizione e a un certo punto riassume verstein dice a un certo punto nel suo articolo guardate alla fine diventa una specie di sinonimo per cose con cui non sono d'accordo d'accordo e già questo ci dovrebbe far riflettere ma comunque è un riassunto probabilmente come dire un po tagliato grosso però ci sta ecco come infatti se voi pensate anche a cosa quando non sono nei talk show qualcuno va a parlare di disinformazione che cosa in mente dietro 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 quel termine vi renderete presto conto che spesso è cose con cui non si è d'accordo politicamente su questo torno torno alla fine ora se non è chiaro a nessuno che cos'è disinformazione non vuol dire però che non ci siano degli studi che hanno provato a scusate che non ci sia un modello da qualche parte di che cosa sia questa questa disinformazione cioè il più diffuso e quello che viene sostanzialmente usato sempre è un modello che è stato creato nel 2017 pubblicato per la prima volta in un report del finanziato al consiglio d'europa che non è quello che non fa parte l'unione europea spesso questa questa confusione ma il council of europe non c'entra con con l'unione europea e praticamente questo questo report che è stato scritto da claire wardle e what's the same direction si chiama information disorder e poi ha un lungo sottotitolo e è stato il primo a a creare il modello che tutt'oggi sostanzialmente viene usato da tutti quando si parla di disinformazione questo modello si basa su tre concetti principali disinformation misinformation e malinformation ve li dico in inglese perché in italiano misinformazione è già qualcosa che in sostanza non esiste quindi diciamo questi tre termini qui che cosa li distingue malinformation è l'informazione vera ma diffusa con un intento di danneggiare qualcuno un grande classico sono informazioni personali che attengono alla sfera privata e quindi alle abitudini ad esempio sessuali o alla situazione sanitaria o queste cose qui a volte naturalmente queste informazioni possono essere diffuse con l'intento di danneggiare qualcuno e nel questo diciamo framework teorico sono la cosiddetta malinformation ma sostanzialmente questa malinformation è un termine che non si usa mai quindi la parte più interessante è misinformation e disinformation che ha a che fare con le diciamo la grande sfera delle notizie che non sono del tutto vere cosa distingue misinformazione da disinformazione quello che le distingue è essenzialmente l'intento l'intenzione intent l'intenzione secondo questo report cioè se qualcuno ha fatto apposta nel diffondere quel tipo di informazione scorretta se ha fatto apposta e quindi l'ho fatto di nuovo con l'intenzione di mettere in giro fare più clic sul proprio sito mettere in giro qualcosa che può danneggiare un politico uno stato insomma tutti i motivi che possono venire in mente per diffondere informazioni false allora siamo davanti alla disinformazione se invece non l'ho fatto apposta allora è misinformazione ora capite bene che questo modello questa cosa dell'intenzione pone quasi da subito se ci pensiamo un attimo dei grossi problemi perché ad esempio l'intenzione è qualcosa che sta diciamo nel cuore di chi delle persone che compiono questi gesti quindi non si può sapere ovviamente e poi la disinformazione online nel 99,9% dei casi è una disinformazione anonima che non arriva con un nome o un cognome di chi l'ha creata per la prima volta se voi prendete per esempio un meme in cui c'è la foto di Mattarella e sotto una frase mai pronunciata da Mattarella che è un grandissimo classico di come si produce un contenuto di disinformazione perché è velocissimo e può diventare facilmente virale da quanto ne so io sostanzialmente mai si sa chi l'ha creato per primo non so neanche se è fattibile saperlo ma sicuramente il nome dell'autore è sempre sconosciuto ma quando poi questo meme viene diffuso ad esempio su una chat di messaggistica e diventa virale perché viene condiviso su gruppi con centinaia e centinaia di persone l'intenzione è davvero poi così importante cioè chi lo ricondivide ai suoi amici sul gruppo del padel e lo fa perché ci crede o perché c'è cascato quindi in quel caso nel caso in cui ad esempio lo fa perché non ci crede ma lo condivide lo stesso per ridere cos'è? è disinformazione o è misinformazione? E se a un certo punto il primo che l'ha creato lo ha creato con l'intento di danneggiare qualcuno ma tutti quelli che lo condividono lo fanno per farci una risata oppure perché chiedono se quel pezzo di contenuto è vero o no allora cos'è? Un contenuto di disinformazione che è diventato un'isinformazione? Insomma vi rendete conto che sostanzialmente questo modello questo schema non funziona molto non serve tanto a capire che cosa che cosa sta succedendo nonostante questo il modello che a un certo punto che possiamo chiamare anche MDM perché misinformation disinformation malinformation il modello MDM insomma scricchiola parecchio in questa parte in cui divide tra le varie i vari tipi di disinformazione basato sulla basato sull'intenzione molto bene ma in realtà nel modello MDM c'è anche qualcosa di più c'è una classifica in sette tipologie di come può essere i contenuti chiamiamoli genericamente disinformativi è una classifica di sette categorie che ad esempio potete ritrovare sulla guida essenziale per comprendere il disordine informativo che è stata pubblicata a gennaio 2020 come traduzione italiana dell'originale inglese che era uscito nell'ottobre del 2019 da parte di First Draft First Draft First Draft è forse il più famoso centro diciamo è una cosa a metà via tra un think tank un'associazione e una realtà media che si occupa di disinformazione americano ma anche una sede Londra ed è stato fondato da Claire Wardle che è l'autrice del report del 2017 bene praticamente se voi prendete questa guida che è gratuita e si trova online anche questa trovate i capitoli che hanno il nome di queste sette categorie sono sostanzialmente andando dal più o meno dannoso nella classificazione di First Draft satire parodia quindi quando un contenuto satirico viene preso per vero cosa che in passato è successa poi c'è il falso collegamento che è quello che potremmo probabilmente trovare a volte lo chiameremmo clickbait quindi diciamo è quando tra il titolo di un articolo e il contenuto dell'articolo non c'è una corrispondenza molto precisa ci sono un paio di siti di cui non farò il nome ma che diciamo si ispirano ai concetti della libertà che hanno fatto di queste cose un'arte voi andate sul sito troverete un sacco di articoli che dicono robe del tipo non so la sberla di Salvini non crederete mai cosa ha detto e poi ci cliccate dentro e quell'informazione sostanzialmente non c'è poi c'è un contenuto fuorviante quindi ad esempio un contenuto che dice di essere qualcosa in realtà è qualcosa d'altro qualcosa con un contesto falso questo è un grandissimo classico della disinformazione pura ad esempio uno prende una foto dei festeggiamenti e questo è un caso reale dei festeggiamenti in Francia per la vittoria della Coppa del Mondo e lo ripubblica sulla propria pagina dicendo questa è la gente che a Parigi protesta contro il Green Pass quindi vedi lì Champs-Élysée con 500.000 persone con anche i fumogeni e le bandiere tra l'altro quindi chiaramente una situazione di grande festa e invece poi qualcuno lo ripubblica dicendo questo è successo ieri a Parigi contro il Green Pass questo è un grandissimo classico della disinformazione oppure ci sono insomma gli altri casi poi adesso ve li posso elencare a tutti ma avrete un po' capito le categorie ad esempio c'è il contenuto manipolato quindi una foto ritoccata o una foto in cui cambi qualcosa oppure il contenuto completamente inventato il contenuto completamente inventato che come diciamo in una storia sì come una storia di fantascienza uno scrive qualcosa che non è mai successo tipo uno dei più famosi in questo campo è quando è stato detto che Donald Trump aveva ricevuto l'appoggio preelettorale da parte del Papa un articolo che era stato pubblicato online completamente inventato ovviamente che aveva avuto la sua diffusione bene queste sette categorie in realtà sono abbastanza utili nel senso effettivamente corrispondono a delle cose reali ma se le scorrete vi renderete conto che coprono una parte molto molto piccola di quello che nel discorso comune viene chiamato come disinformazione quindi ad esempio quando si dice che non so in questo momento in Italia è in atto un ah no meglio questo ve lo tengo per dopo questo esempio perché è piuttosto per doppio comunque diciamo queste sette categorie esistono ci sono questi sette tipi di contenuti che effettivamente corrispondono a queste discrezioni ma il punto è che queste categorie questi contenuti formano una percentuale molto molto bassa del contenuto che gira perfino che gira sui social network negli ultimi mesi e anni c'è stato un periodo in cui ad esempio erano molto diffuse i meme che erano un caso di contenuto inventato ve lo ricorderete nel 2016 17 mi pare giravano molto queste foto di attori sostanzialmente con sotto una scritta che diceva questa è non mi ricordo Giuseppina Boldrini adesso non mi ricordo il nome è stata assunta dalla camera prende uno stipendio di 5.000 euro al mese quella cosa lì esisteva era un fenomeno che però come dire ci rendiamo conto che anche se molta gente l'ha visto io l'ho visto ad esempio ma spesso condivisa da qualcuno per riderci su e dubito che dal punto di vista degli effetti che ho avuto con i meme lì abbia avuto una conseguenza rilevante sull'opinione pubblica la diffusione di quel contenuto quindi le sette categorie che stanno sotto il modello mdm non è che sono completamente da buttare però descrivono una piccola parte della realtà un sottoinsieme di quello che succede nel mondo dell'informazione online e soprattutto un piccolo sottoinsieme di quello che comunemente la gente diciamo comune noi stessi abbiamo presente quando parliamo di disinformazione tra l'altro piccola nota a margine queste sette categorie ci fanno anche porgono il destro diciamo per una piccola riflessione sul fenomeno del deepfake ora si parla moltissimo di deepfake il deepfake è una inizialmente era solo audio ora è diventato anche video ed è sostanzialmente una rielaborazione informatica fatta con dei software particolari di enormi quantità di discorso parlato e video girato di qualche personaggio da cui si può costruire un nuovo video e un nuovo audio in cui a quella persona si fanno dire o fare delle cose che non ha mai fatto ecco diciamo subito una cosa i deepfake non esistono cioè non c'è nel campo della disinformazione almeno è un fenomeno che non c'è non si vede mai non mi è mai capitato in anni che mi occupo di disinformazione di vedere un genuino caso di deepfake che si è diffuso online e a cui la gente ha creduto perché il motivo è molto semplice per creare un deepfake ci vuole un mare di audio e di video di una persona per cui tra l'altro il deepfake adesso le cose lentamente stanno diventando tra virgolette più facili da produrre ma per i primi mesi si è visto solo cose di attori famosi di persone famose c'era quello famoso di Obama e ci vogliono un sacco di ore un sacco di potenza di calcolo dei programmi particolari e una certa perizia tecnica quindi è un prodotto difficilissimo da creare dall'altro lato di nuovo il meme con l'attore e una scritta sotto ci vogliono 20 secondi prendi una foto a caso su internet di qualcuno che ci assomiglia vagamente scrivi una frase sotto con uno dei generatori di meme che sono gratis online che li puoi vedere da tutte le parti bam lo pubblichi online ci hai messo in totale 30 secondi non vedo perché qualcuno dovrebbe mettere il labiale di mattarella che dice una cosa falsa e metterci una settimana quando può far ottenere lo stesso identico risultato sostanzialmente in 20 secondi non ha senso motivo per cui il deepfake è un tema di cui sentirete parlare un sacco quando si parla di dibattiti sulla disinformazione ma è una discussione sostanzialmente accademica tanto più che sostanzialmente adesso ci sono dei programmi che con un livello di accuratezza molto alto non abbastanza per prenderli tutti ma quasi sono in grado di capire se un video è un deepfake o no quindi appunto dimentichiamoci del deepfake chiusa torniamo i nostri sette categorie sono utili sono utili per una minoranza di contenuto che pure gira sulle piattaforme non è che non gira ma che ha una sostanzialmente una un effetto un reach come si dice in termini tecnico una capacità di raggiungere l'audience e ancora di più di convincere l'audience che è molto molto bassa ci sono tantissimi contenuti disinformativi di questo tipo delle sette categorie pubblicate pubblicati ogni giorno online il 99,9% di questi raggiunge pochissime persone e con alcuni programmi di partnership come ad esempio quello di cui facciamo parte noi e che operiamo principalmente tramite facta.news le piattaforme possono in un certo senso sostanzialmente vederli trovarli e applicarci su un'etichetta che dice che quel contenuto lì è falso quindi sono utili come categorizzazioni sono utili per il debunking sono però sostanzialmente una piccola minoranza piccolissima minoranza del contenuto che c'è online grandissima parte della disinformazione infatti nonostante quello che viene normalmente pensato e quello che sta sotto quel modello meccanicistico di cui parlavamo grandissima parte della disinformazione infatti ha pochissimo effetto ci sono poche storie di disinformazione però che hanno molto effetto e qui veniamo ad un altro aspetto che spesso viene dimenticato e cioè che è vero che ci sono dei casi di storie che pensiamo ad esempio alle storie dei farmaci che curerebbero il covid l'ultimo è l'ivermectina no tra l'altro l'ivermectina è un caso molto interessante perché ci sono stati spinte disinformative da una parte dalla parte dei favorevoli diciamo e dalla parte dei contrari dalla parte dei favorevoli viene detto sostanzialmente senza che ci siano prove solide che sono dei che sono che è un farmaco molto efficace per curare la covid cosa che per il momento non è dimostrata dalla parte dei contrari c'è stato un famoso caso in cui si sono inventati che la gente negli ospedali del non so se del Kansas dove andava un sacco di gente andava si presentava al pronto soccorso perché aveva avuto delle overdose di di vermectina cosa che poi si è scoperto non essere vera e poi soprattutto questa teoria che io vi sto ripetuta anche in italiano ma che non è non è vera che l'ivermectina sia solo un farmaco per cavalli l'ivermectina non è solo un farmaco per cavalli è nato come un sostanzialmente un qualcosa che toglieva i parassiti dei cavalli ma poi si è visto che ha dosaggi completamente diversi è efficace anche contro l'uomo anche sull'uomo scusate non contro l'uomo efficace anche sull'uomo quindi è un farmaco anche per gli uomini quindi non è non è solo uno sverminatore uno sverminante per cavalli come viene detto ho visto un sacco anche sul twitter sul twitter italiano ecco però ecco diciamo questa storia questa storia tipo l'ivermectina alcune di queste è innegabile che sono diventate famose perché non tanto perché siano state pubblicate sui social network di per sé ma perché sono state riprese da personaggi famosi da personaggi in una diciamo che hanno un grande seguito che hanno la capacità di arrivare immediatamente a un sacco di pubblico che verso di loro ha un rapporto di fiducia vedete che torniamo al discorso che facevamo inizialmente e che quindi gli arriva subito l'informazione falsa allora sì è là fuori e diventa un problema ma se questo meccanismo del cosiddetto dei super diffusori poi è stato anche chiamato che secondo me è anche un'etichetta che rende bene con un'analogia virale con quello che sta succedendo oggi ma diciamo se questo meccanismo non avviene la storia rimane lì un paio di esempi Donald Trump è diventato famoso negli Stati Uniti era già famoso per le sue cose diciamo televisive di apprentice eccetera perché era un ossessionato alla pubblicità negli anni 80 a New York eccetera eccetera vabbè ma non è questo ma negli ultimi anni dal punto di vista politico è diventato famoso perché a un certo punto ha durante un'intervista ha tirato fuori la balla che Obama non era nato negli Stati Uniti questa storia dopo che l'ha detta Trump è diventata molto famosa ma prima rimaneva confinata a delle sacche di matti che ascoltavano delle radio di estremisti di destra o proto-razzisti cose del genere e vabbè magari radio che arrivavano anche a molte persone in termini assoluti cioè arrivavano anche a milioni di persone ma nei termini della maggioranza del pubblico no arrivavano a una percentuale molto molto bassa degli elettori americani quindi rimanevano un fenomeno di nicchia e i matti ci sono sempre stati ma questi contenuti disinformativi poi diventano mainstream e vengono conosciuti da tutti quando c'è qualcuno di famoso che gli dà spazio la stessa cosa si può vedere anche nel caso italiano tutto il caso stamina sarebbe rimasto una storia delle cronache locali di Torino e sarebbe rimasto una storia in cui interessava sostanzialmente 30 poveri disgraziati raggiunti da questo truffatore se non fosse che a un certo punto in prima serata è stato ripreso dalle iene e che ci hanno fatto su un servizio in cui mostravano che c'erano dei poveri bambini che venivano sostanzialmente lasciati morire perché c'era questa cura miracolosa e non gliela facevano usare ma se non ci fosse stato quel singolo servizio quella sera lì in televisione tra l'altro io nella vita negli ultimi dieci anni avrò visto le linee due volte una di quelle due ero a caso di un mio amico che è stato quella sera lì non so veramente coincidenze astrali incredibili se non ci fosse stato quel servizio lì il caso stamina non sarebbe diventato un caso nazionale e nella stragrande maggioranza delle storie di disinformazione questo è quello che succede qualcuno di grande visibilità racconta delle storie che poi sono false ma di queste storie false ce ne sono moltissime altre che rimangono nelle nicchie del web e che nessuno vede mai e che vengono più o meno intercettati dai fact checker che gli appoggiano su un'etichetta che quella è una cosa è una cosa falsa ed è utile che venga fatto questo lavoro per carità quindi serve che qualcuno da qualche parte dica che quel contenuto è un contenuto completamente inventato però è anche vero che nella stragrande dei casi è un contenuto che non arriva da nessuna parte se non viene raccolto da qualcuno pensate ad esempio a l'antivaccinismo italiano ripreso da non lo so personaggi più o meno noti se non ci fossero quei personaggi che li riprendono ma sì esisterebbe come fenomeno ma rimarrerebbe confinato a delle sparute minoranze quindi qual è il problema quindi che le poche descrizioni teoriche che abbiamo che funzionano sul fenomeno disinformativo e i pochi modelli che abbiamo a disposizione non coprono assolutamente quello che non ci piace nel discorso sui media e nel discorso politico soprattutto nel discorso politico perché questo è un altro punto fondamentale fatte salve poche e circostanziatissime eccezioni le notizie false in senso stretto non vengono diffuse dai politici e non vengono neanche diffuse dai media questa sarà la cosa che forse vi troverà meno d'accordo ma io di queste cose sono convinto sui giornali uno non trova storie completamente inventate e uno non trova storie manipolate storie di satira prese pervere immagini completamente fuori contesto queste cose tendenzialmente non succedono nella stragrande maggioranza dei contenuti pubblicati sui giornali succede ogni tanto che qualche giornale per sbaglio pubblichi una foto con una didascalia completamente sbagliata perfino un contenuto falso eccetera eccetera ma sono minoranze minuscole eh allo stesso modo i politici non diffondono notizie completamente false mi dispiace questa è una realtà cioè è successo sarà successo una volta o due per carità che un social media manager un po' esuberante ha preso ma almeno nell'Italia in Italia e nell'Europa occidentale poi se andiamo in altri paesi del mondo la questione è differente però almeno nel nostro nella nostra esperienza questo non succede due cose succedono uno succedono errori e imprecisioni anche gravi ad esempio oggi sta girando che eh a proposito della 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 manifestazione di ieri eh eh a sostegno della CGL ci sono questi due titoli uno della stampa uno di Repubblica mi pare uno che dice centomila in piazza l'altro che dice duecentomila in piazza ma uno sapere quanta gente sta in piazza è sempre stato molto complicato non si sa i numeri poi alla fine vengono sempre gonfiati dai media ma in assenza di questa grande incertezza quello non è il fatto che da una parte sia cento e l'altra duecento non è disinformazione non c'entra nulla con le notizie false è sciatteria se volete al massimo incertezza difficoltà nell'arrivare alla verità dei fatti è un'altra cosa è un altro fenomeno è qualcosa d'altro di cui dovremmo parlare non è disinformazione e poi la stessa cosa è valida anche per i politici che magari tirano fuori delle notizie minime di cronaca per dimostrare questo a quel punto o portano avanti degli slogan che ci possono risultare perfino odiosi ma tendenzialmente non dicono cose completamente inventate perché? perché non ne hanno bisogno una delle cose più interessanti di concerti finali con cui chiudo è questa abbiamo una visione spesso dietro questo dibattito sulla disinformazione spesso c'è una visione anche un po' troppo tra virgolette scientifica del linguaggio si tende a pensare che i discorsi dei politici siano dei discorsi che vogliono informare che vogliono dare delle informazioni e che in generale esista solo quel tipo di discorso che tutti i discorsi siano fatti per dare un'informazione precisa e quindi un'informazione che può essere o vera o falsa questo modello è sbagliato è falso non è così i politici vogliono non vogliono informare vogliono convincere il loro discorso è fatto spesso di cose con cui noi possiamo essere visceralmente contrari ma che non sono né vere né false da un punto di vista epistemiologico se mi è passato il termine scientifico gli slogan politici spesso sono infalsificabili sono inverificabili non sono una questione di vero o di falso make America great again non è è un messaggio potentissimo che arriva un sacco gli elettori li convince ma non è verificabile non è né vero né falso una promessa oppure il discorso politico può essere fatto di giudizi di opinioni di interpretazioni di fatti e anche quelli sono opinabili si può dare il contesto si può provare a spiegare mettere le cose in prospettiva non si può dire né che sia vero né che sia falso ad esempio il lo slogan che siamo davanti sia un'invasione di migranti ora si sente di meno ovviamente per motivi numerici ma qualche anno fa era uno degli slogan preferiti di una certa parte politica è uno slogan sostanzialmente inverificabile cosa vuol dire invasione se guardiamo i numeri è vero che storicamente stiamo ricevendo sta arrivando in Italia un numero di persone incredibilmente più alto che rispetto a tutti gli ultimi decenni in un paese come l'Italia che sostanzialmente non ha mai visto immigrazione di massa fino a alla metà degli anni 90 quindi siamo senz'altro di fronte a un fenomeno nuovo invasione però è un termine che ovviamente si porta per sé tutta una carica storica emotiva politica che per non moltissimi suonerà intollerabile dirà no questa cosa bisogna dimostrare che è falsa bisogna dimostrare che è un caso di disinformazione ma non è verificabile non si può trovare numeri che la smentiscano sì uno può dire questo è un percentuale molto basso nel rapporto alla popolazione eccetera ma di nuovo il giudizio di valore sta al singolo e non si può bene e non si può bene decidere né in un senso né nell'altro e questo e chiudo davvero è il motivo per cui in sostanza esistono due tipi diversi di fact checking due tipi diversi di verifica delle informazioni uno che è il fact checking diciamo che si occupa di dichiarazioni politiche di cose che sono là fuori perché spesso effettivamente i politici citano numeri citano dati citano fatti e allora quello che si può fare è darci un contesto andare a vedere quali sono i numeri veri verificare se c'è stato magari qualche numero che è stato detto in modo sbagliato o a cui è stata data un'interpretazione troppo parziale e quello è fact checking politico che tendenzialmente non ha molto a che fare con la disinformazione almeno nel miglior modo in cui la si può definire oggi e il miglior modo nonché uno dei pochi che abbiamo è la classificazione di quelle sette categorie molto particolari che stanno dietro la guida di first draft che sono ancora valide se togliamo la parte misinformazione disinformazione che abbiamo visto che è una distinzione che non funziona tanto ma quelle sette categorie sono ancora valide per il secondo tipo di fact checking che è il cosiddetto debunking si può anche dire che sostanzialmente va a prendere notizie diffuse di solito in modo orizzontale tra le persone online nelle chat nell'app di messaggistico sui social network e va a vedere se in effetti si tratta di qualcosa di completamente manipolato e completamente inventato ma i due mondi i due tipi di fact checking molto raramente abbastanza raramente si incrociano si incrociano soltanto quando succede che un politico una trasmissione televisiva o qualcuno molto in vista prende uno di quei contenuti che rimarre altrimenti rimarrebbe confinato in una ridotta poco rilevante e lo porta all'attenzione di tutti ma è un caso molto molto raro quindi e concludo davvero moltissime delle cose che sappiamo ho messo tutto nel 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 titolo per semplificazione diciamo giornalistica moltissime delle cose che sappiamo nel dibattito e che viene fuori anche nel dibattito sulle in televisione quando si vede sui giornali sul tema della disinformazione sono molto approssimative o sbagliate bisogna seriamente e spero oggi di avervi dato qualche spunto utile fermarsi un attimo a pensare se le parole che stanno lì sono veramente vogliono dire veramente quello che le vogliamo far dire oppure in realtà dietro di nuovo al termine disinformazione si maschera soltanto il fatto che molto spesso ci sono un sacco di cose da fuori con cui non siamo d'accordo e ci piacerebbe che non ci fossero grazie dell'attenzione beh Giovanni grande grazie sei tra l'altro in tempi perfetti io mi sono permesso di inserire qualche link di bibliografia mentre tu parlavi ho aggiunto il verification handbook in cui c'è anche quella parte di di Claire Ward sulla la la tridistinzione sì e devo dire che anche io sono molto d'accordo con te ci sono anche un sacco di casi di studio interessanti e ci sono un sacco di studi esatto esatto ci sono un sacco di casi di studio interessanti io a questo punto se qualcuno di voi ha delle domande direi che questo è il momento a me sono venute in mente un sacco di cose che però molte delle quali secondo me è più facile parlarne dal vivo davanti alla classica birra anche perché mi è venuta in mente che una delle cose di cui mi occupo che sono le macchine e uno dei fenomeni del novecento che è la diffusione di massa delle automobili è stato causato sostanzialmente da un'opera di gigantesca di non disinformazione ma misinformazione che è la pubblicità nessuno si occupa anche lì la pubblicità non esiste il fact checking della pubblicità è considerato un un franco in qualche modo sì e tra l'altro cioè nel senso ci sono un sacco di incroci tra il tema della pubblicità e come il funzionamento della pubblicità e questo discorso che viene fatto sulla sulla disinformazione no Bernstein ne parla un po' dice ad esempio che è un modello sostanzialmente pubblicitario quello che abbiamo della disinformazione che non funziona cioè è il fatto che chi lavora in pubblicità ha convinto tutti gli altri che il il cervello umano funzioni a sostanzialmente a stimoli stupidi e che se tu gli fai vedere una cosa migliaia di volte poi la farà o che se tu gli fai vedere un sacco di spot poi per forza comprerà quel prodotto in realtà questo è un modello molto molto grezzo che funziona fino a un certo punto però dall'altro lato forma parte di un'operazione che può essere ad esempio di di propaganda e questo è l'altro grande tema che si intreccia con quello di cui stiamo parlando cioè si può costruire una propaganda intorno alla che cos'è l'informazione cos'è la disinformazione così come si può costruire una propaganda intorno a quali sono i mezzi di di trasporto certo però questo è come dire un lavoro e dei meccanismi che stanno a monte e che e che non appunto sono molto interessanti da 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 esplorare sono meno utili per diciamo la cosa di tutti i giorni ecco è interessante vedere come però lì sono i meccanismi della comunicazione che ritornano quindi appunto alcune delle tattiche che la disinformazione usa vengono dalla pubblicità per esempio se posso farti invece una domanda previsto che vedo che non ce ne sono una allora io appunto ho lavorato un po' sul tema ho tradotto il verification handbook sono sono tanti anni che diciamo bazzico questo tema e ultimamente diciamo se devo dire dove sono arrivato per definire perché succede questa cosa qua il sono arrivato al punto di dire ovviamente non c'entrano i social ma c'entra soprattutto due cose secondo me diciamo l'infodemia massima nel senso la diffusione enorme di quantità di informazioni e il rinforzo del fenomeno delle come si chiama in inglese l'eco chamber l'eco esatto ovvero tendenzialmente noi siamo sempre portati di natura a autoconfermare quello che ed è normale e meno male nel senso che funzioniamo così dall'altra questo istinto buttato dentro un sistema in cui le informazioni sono moltiplicate a delle esponenziali enormi fa sì che a quel punto ognuno crede a quello che gli pare come si fa a contrastare una cosa cioè eh ma riscontri con questa cosa qua giornalmente immagino di sì sì ma la cosa a cui penso io è si può cioè si può contrastare nel senso questi questi fenomeni sono causa o sono effetto di qualcosa cioè e di nuovo non è che stiamo confondendo il mezzo con con il con il messaggio allora caso eh esemplare a cui stavo stavo pensando la mattina ehm quelli che sono andati il 6 gennaio a spaccare la si sono organizzati sui social network perché ci sono i social network o perché i social network sono il modo con cui ci si organizza oggi per un evento no ehm ad esempio ci sono un sacco di esempi inquietanti drammatici di cui non voglio dire che non siano una cosa orrenda che esistano ma di informazioni false che sono circolate sui social network in alcuni paesi del mondo e che hanno portato ad esempio a perseguitare una minoranza nel caso ad esempio del Bangladesh della minoranza e Rohingya musulmani no allora il discorso è in quei paesi i social network sono il mezzo di comunicazione sono l'equivalente della della radio in altri posti o della tv o dei giornali perché tutti hanno un smartphone e per una programma diciamo del social network più famoso sostanzialmente gli danno lo stesso social network gratis e quindi la gente identifica con il social network internet ora il discorso è è una cosa orrenda che si è successo è una cosa problematica che abbia usato quello strumento per organizzarsi ma il discorso è questa cosa ha causato questi odi razziali oppure erano già lì e hanno usato quello strumento per organizzarsi perché ci ricorderemo che negli anni 90 quando c'è stato l'ugualmente orrendo genocidio in ruanda lì ci si organizzava con la radio la famosa radio del cento colline quindi non è che noi adesso tendiamo un po' a pensare che se cioè è come se i social network ci abbiano permesso di vedere cose che sono già lì una una nel piccolo è la stessa cosa di di quello che una volta sentivi come chiacchiere al bar no una volta tu entravi in un bar c'era uno sconosciuto al bancone che diceva una cazzata clamorosa su qualsiasi cosa su Berlusconi che in realtà era un alieno che ne so le sentivi però restavano lì non le vedevi io ho l'impressione che oggi noi con internet vediamo un sacco di rumore di fondo che è quello che dicevi tu no sul fatto dell'infodemia sul fatto che siamo invasi da informazioni ma il discorso è che dovremmo essere anche in grado di selezionare quelle che hanno una minima rilevanza e hanno un minimo rilievo e non sono semplicemente un pazzo che dice una stupidaggine ad esempio c'è questa moda faccio questo esempio perché se la prende con 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 chi dovrebbe essere diciamo dalla nostra parte magari ammesso che però c'è questa moda di pubblicare screenshot modificati in cui si selezionano solo alcuni commenti facebook sotto il post di personaggi molto famosi tipo mi ricordo uno Laura Boldrini no? e sotto c'erano delle cose orrende scritte da chiaramente dei poveri cretini no? che scrivono queste cose tremende ma io dico quelle robe di io non le avrei mai viste se non si fosse messo qualcuno che per alcuni mesi ha creato una moda dell'andare a prendere i commenti più beceri antisemiti razzisti pazzi di totali sconosciuti e farci su addirittura un pezzo ma io dico ma è come se Repubblica o qualunque qualunque giornale vi piaccia entrasse in 20 bar prendesse il commento più stupido fatto dal più cretino che sta al bancone in 20 paesi a caso dell'Italia e ci facesse un pezzo ma cos'è sta roba? cioè è nulla no? quindi secondo me la grande cosa da capire sulle dinamiche di informazione online è che appunto ci sono un sacco di cose da capire e che bisogna affrontare il tema di quello che c'è su internet con un minimo di cognizione di causa di come funziona il mezzo se no ti presti a delle cose francamente ridicole no? anche perché mi viene in mente una cosa che ci diceva tra l'altro un ospite delle prossime eventi che Giovanni De Mauro durante il documentario in cui tra l'altro ci sei anche tu pensa che meta e diceva noi dobbiamo anche fare i conti col fatto che scusate questa è mia figlia che sta facendo dei casino non fare i conti col fatto che dieci anni fa secondo noi i social erano la causa delle rivoluzioni arabe e dieci anni dopo la causa assolutamente se pensiamo entrambe le cose evidentemente c'è qualcosa assolutamente è come dire che col coltello come si chiama serial killer pazzesco fa un sacco di danni ma il mio cuoco il mio macellario di fiducia ci taglia delle bistecche che non ti sto neanche a dire certo certo cioè noi appunto creiamo una visione del mondo spesso che è in contraddizione con quello stesso che pensavamo pochi anni fa è vero verissimo fino al 2011 Twitter era l'araldo della democrazia nel mondo e dopo 3-4 anni invece i social network sono diventati la causa di tutti i mali quindi è verissimo quello che dici cioè io vedo sempre di più che c'è un grandissimo scollamento tra la realtà e la rappresentazione della realtà tra la realtà e come noi descriviamo la realtà per cui hai questi pensosi personaggi che vanno in televisione dicono ah sì perché la disinformazione sta rovinando le nostre democrazie ma siamo sicuri che sia quello o che non siano adesso non per fare analisi spicciola ma siamo sicuri che sia quello o magari è la disoccupazione al 12% la disuguaglianza dei redditi la mancanza di prospettive il fatto che i giovani a 40 anni stanno ancora vivendo con i loro genitori cioè vogliamo parlare di cose serie oppure anche perché mettiamo qua a dire secondo me da questo punto di vista citerei proprio Montale nel senso che noi possiamo dire cosa non è è difficile dire cos'è e i social sicuramente non lo sono io ho prove fisiche che mi dimostrano che la disinformazione tutti questi questi fenomeni non hanno minimamente nulla quasi nulla a fare con i social network in maniera nel senso causa-effetto poi sicuramente hanno un ruolo ma non hanno scatenato questo evento perché ho trovato delle lezioni di Orkheimer degli anni 40 in cui parlava di questa cosa qua o Orkheimer era un viaggio tra il tempo cosa dubito ma si potrebbe scrivere un grande pezzo e fare una grande lista di letture che praticamente ci aiutano a leggere il presente di oggi e sono state scritte tutti i 60 anni fa un paio di esempi in cui mi sono abbattuto io imbattuto io ad esempio è il famoso The Paranoid Style in American Politics di Hofstadter lo stile paranoico nella politica americana e parla lì è perfetto parla già di complottismo di teorie del complotto che influenzano la politica mainstream ed è stato scritto nel 62 oppure ancora prima c'è un bellissimo soggetto molto famoso che si chiama sul rumor di Altman e un altro praticamente dice The Psychology of Rumor mi pare cioè la psicologia delle riccerie delle chiacchiere e anche lì dice delle cose fondamentali su quello che è successo nella pandemia adesso ad esempio dice che dove c'è incertezza sull'informazione è lì che crescono i rumors cioè c'è un vuoto informativo non è tanto chiaro cosa sta succedendo e quindi l'informazione riempie scusa le dicerie tra la gente le cose che le voci che circolano riempiono quel vuoto informativo e quello lì di nuovo è stato scritto ancora prima mi pare non so se nel 50 o la fine degli anni 40 addirittura quindi si potrebbe fare veramente una bisognero fare tipo un'antologia dieci saggi che spiegano il casino di oggi con le cose di 70 anni fa e magari ad andare a scavare magari si può andare ancora prima però diciamo già queste sono cose ovviamente si può sempre andare dagli antichi greci però poi il lessico diventa c'è sempre qualcosa che vai da da platone e trovi esatto c'era qualcuno su twitter che aveva fatto questo tweet famosissimo che diceva ditemi qualcosa io vi dirò un greco che l'ha detta prima direi molto azzeccato noi abbiamo sforato di dieci minuti cioè sforato ci siamo presi dieci minuti per continuare allora c'era una forse una domanda sì c'è un'osservazione molto interessante che dice di Nicoletta che dice scrive possiamo dire che molto parte della cultura personale e cultura generale ovvio non scolastica credo si debba partire proprio dalla credibilità rinforzare questo aspetto e sconfiggere il gusolare che fa cattiva informazione sostituendo comportamenti diversi è verissimo assolutamente io credo che una grande questione dirò una cosa molto impopolare ma io credo che un grande problema sia il fatto che nella nostra cultura odierna si sia un po' perso il come dire il principio di autorità nel senso è un po' tutto le figure d'autorità in generale sono un po' tutte in crisi quindi i media che dovrebbero dirti che cosa succede la politica che dovrebbe essere più esperta di te e dovrebbe essere in grado di questo qui secondo me è verissimo che ha una dimensione in qualche modo da oddio mi verrebbe a dire da riscoprire ma non riscoprire ovviamente bovinamente prendendo qualsiasi cosa che viene ma dando più spazio e dando più ascolto a quelle realtà che magari anche nel loro piccolo fanno della buona informazione fanno dei bei prodotti culturali che ti fanno pensare che ti fanno no e e d'altra parte invece che chi non lo fa venisse un po' di più additato come qualcuno che non sta lavorando bene però qui d'altra parte è anche vero che è un po' davanti ai nostri occhi che i media tradizionali che non se la cavano moltissimo bene con la curatezza delle informazioni sono in effetti in grave crisi quindi chissà forse nel lungo periodo effettivamente emergerà qualcosa di qualità ecco si spera io sono molto d'accordo anch'io con quello che dice Nicoletta e mi viene da aggiungere poi chiudiamo veramente che forse è una correlazione impropria ma direi per usare tra l'altro il linguaggio dei complotti sarà un caso che tutto questo clima di incertezza totale di totale crollo dell'autorevolezza e di diffusione abbastanza inedita di chiamiamole stronzate bulghi altro saggio che entrerebbe sia esattamente arrivata alla fine di un percorso di depauperamento dell'educazione e della distruzione della scuola in gran parte dei paesi che adesso si lamentano di avere di subire questi attacchi non so se è una correlazione diretta io credo che ci sia sicuramente una correlazione perché la cultura personale la cultura anche scolastica l'educazione dovrebbe essere la base di questo e credo che gli anticorpi si facciano lì e purtroppo noi adesso stiamo combattendo una battaglia sostanzialmente di retroguardia nel senso che stiamo scappando e ci stiamo coprendo un pochino quando dovremmo farla al contrario e quindi anticipare chi lo sa nobody knows chi lo sa grazie Nicoletta dai adesso finiamo veramente ringrazio tantissimo Giovanni grazie a voi per questa ora abbondante di questa sua domenica brunch esatto e niente sono sicuro che ci vedremo la prossima volta grazie a voi dell'invito nel 2022 nel 2022 magari online scusate magari non online magari non online magari fisico anzi speriamo speriamo veramente poterlo fare fisico e a questo punto niente buon pranzo a tutti è stato un gran piacere ascoltare grazie a tutti e grazie a tutti quelli che hanno ascoltato a presto a presto ciao a tutti